Con l'estate tornano gli incendi sul territorio della città di Agropoli. Ad essere colpite da vasti lingue di fuoco sono state la collina San Marco, parco mediterraneo, ed un tratto della variante strada statale 18 tra Agropoli Nord e Agropoli Sud. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 17 di ieri pomeriggio, alimentate ancora di più dal forte vento che soffiava in quelle ore. Sul posto sono giunti i volontari del gruppo di protezione civile e antincendio di Agropoli che hanno riscontrato non poche difficoltà per domare le fiamme, probabilmente di origine dolosa. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Rosa Dell'Iseo, ha fatto visita proprio nella giornata di ieri agli uffici comunali del sindaco Coppola per assicurare l'apertura del distaccamento estivo dei vigili del fuoco ad Agropoli e ad un'apertura permanente del presidio dei caschi rossi entro la fine del 2019.